dai 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 vai luca dai 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 luca siamo in ritardo ci stanno aspettando non si può ritandare sempre dai 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 so lo so gigi ma la produzione sarà un mezzo troppo ecologico vai luca dai che ce la fai vado vado dove vado dove vado non ne ho idea benissimo lo so benissimo luca ci vorrebbe un segno del destino qua eccolo lì eccolo lì il segno del destino il mondo è diverso diverso da qui quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale ti butti in acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo che c'è scritto luca? buca io ok allora va bene